Buongiorno ragazzi. Breve storia triste. Purtroppo il mio Huawei Y6-2 si è rotto dopo una violenta caduta e adesso ho di nuovo umidigi crystal. Non cercare di giustificarti. Ragazzi, in realtà l'ho tirato contro il muro durante un violento atto di rabbia. Ecco. Sapevo che non ti saresti fatto gli affari tuoi. Ebbene sì, è la verità. Ragazzi, cercate di capirlo. Ha affrontato situazioni pesantissime in questo periodo. Dopo gli iPhone 4S, ora rompe anche i Huawei. Non mi sembra il caso di fare ironia. Come se fosse facile affrontare le situazioni che tutti noi stiamo passando. Grazie del sostegno Giorgio. Anche voi ragazzi, spero possiate capirmi. Ciao a tutti. Ciao, mi raccomando, fai volare anche i Samsung Galaxy S9 Plus. A proposito, i video usciranno in ogni caso poiché ho sempre gli iPhone con cui filmare. Alla prossima.